Ciao, sono Gian Lorenzo. Io sono Marcella. Io sono Francesca e lavoriamo all'European Independent Film Festival. Quest'anno ci saranno 85 film provenienti da tutto il mondo e quattro di questi sono italiani. Il mio preferito è God, God is Dead in the Clouds di Gianluca Sodaro, che rappresenta il dialogo tra un prete e una bambina che ha deciso di denunciare Dio. Il mio preferito è The Biggest Fear di Nicola Di Vico. È un cortometraggio molto commovente ed è incentrato sulla follia di un uomo la cui figlia è stata brutalmente violentata. Veramente, veramente bellissimo e un cast emozionante. Il mio cortometraggio preferito tra quelli italiani invece è Italia Italia di Riccioni, che è un ritratto del paese nostrano, contemporaneo, però fatto tutto concentrato sulla vicenda di una coppia in crisi ed è tutto silenzioso, senza dialoghi, è tutto puntato sulle espressioni e le ambiguità dei personaggi, molto riuscito. Ma un altro pure niente male è Close Box di Boattini e Salvetti, che pure parla dell'Italia di oggi su un uomo che rifiuta di vivere secondo le apparenze. Insomma, venite al Festival dal 4 al 6 aprile e ci starà parecchio da vedere. Buona visione! Grazie a tutti!